A due anni dalla pandemia la città di Salerno è tornata a far sentire la sua ampia partecipazione per il tradizionale rito dell'alzata del panno del suo santo patrono San Matteo Evangelista. Ad un mese esatto dalla ricorrenza del santo il 21 settembre nel Duomo di Salerno ieri sera si è rinnovato l'appuntamento con l'alzata del panno. La santa messa festiva poi un ritorno alle vecchie tradizioni dalla cripta il corteo dei portatori che hanno condotto il panno nell'atrio dove c'è stata l'accoglienza festosa del braccio di San Matteo con le note della banda musicale. Il corteo è stato aperto da Don Michele Pecoraro parroco della cattedrale di via Duomo che ha trasportato il braccio dell'apostolo. I portatori della statua del patrono invece hanno portato in processione il panno che all'arrivo al Duomo è stato essato. La cerimonia dell'alzata del grande panno raffigurante l'apostolo che dall'alto benedice Salerno è stata particolarmente sentita dai fedeli che quest'anno non hanno fatto mancare la loro presenza in cattedrale. Una celebrazione carica di emozione e devozione dove non è mancata anche la presenza delle istituzioni, rappresentanza del comune di Salerno, il vice sindaco Pacchi Memoli e la consigliera comunale Tonia Bilburger, mentre per la provincia di Salerno il consigliere con delega al turismo Pasquale Sorrentino, oltre ad alcune rappresentanze delle forze dell'ordine. L'arcivescovo Andrea Bellandi, nel corso della celebrazione che di fatto fa partire il countdown della festa e della processione per le strade del centro di Salerno il prossimo 21 settembre, ha affidato al patrono cinque sue speranze, non mancando evidentemente, molto velatamente, un suo riferimento alla data del 25 settembre, quando si andrà alle urne per il rinnovo delle cariche al Parlamento e al Senato. Cinque desideri, il primo dedicato alla pace, il secondo alla fine della pandemia, poi il terzo, quello che ha maggiormente catturato l'attenzione dei presenti, quando Monsignor Bellandi ha detto, forza è chiedere toppo e che le forze politiche possano servire davvero il bene comune e non interesse di parte. C'è bisogno di politici che abbiano a cuore il destino di tutti, anche di chi è sulla parte avversa, in fondo siamo tutti sulla stessa barca. Il quarto desiderio di Monsignor Andrea Bellandi è quello di combattere altri virus letali, come quelli della violenza e dell'indifferenza, concludendo poi con l'auspicio che le comunità cristiane possano intraprendere un vero cammino fatto di dialogo, di stima e missionarità.